La relazione annuale 2010 Benvenuti a questa edizione del TG Adconsum, il TG dedicato interamente al consumatore. Il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ha presentato la relazione annuale 2010, l'ultima in questa sua veste. Una relazione puntuale che ha analizzato i problemi e le prospettive dell'economia mondiale, ma soprattutto italiana, con particolare riferimento all'urgente necessità della riduzione della fiscalità da parte dello Stato centrale. Una relazione è quella del governatore Draghi con importanti spunti per la ripresa del Paese. Spunti che potrebbero far parte di un programma di governo? Sì, è un vero e proprio programma di governo e con grande soddisfazione, anche se nella crisi. Diciamo che in qualche modo le indicazioni che abbiamo sempre dato come Adconsum sono recepite. Non è possibile che alle tasse che pesano sulla fiscalità generale si aggiungono le tasse che a livello regionale, provinciale e territoriale ormai tutti stanno aggiungendo. Non è possibile che questa fiscalità pesi enormemente sulle tasche dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. non è possibile che soprattutto in una situazione in cui cassa integrazione e mobilità sono purtroppo all'ordine del giorno per le chiusure delle aziende, si continui a tassare con i mille rivoli i redditi dei cittadini italiani. Questo deprime i consumi e produce infatti una depressione complessiva e quindi anche una perdita di produzione e quindi anche la chiusura di aziende. È una sorta di cane che si morde la coda da cui non si riesce ad uscire se non con un colpo di reni. Credo che Draghi abbia individuato alcuni punti fondamentali e nodali della questione. Speriamo che il governo li recepisca e li porti a compimento. Ed ora una buona notizia. È entrata in vigore una normativa che le associazioni consumatori attendevano da tempo, quella relativa al credito ai consumatori, con importanti novità per coloro che per effettuare un acquisto importante, un'auto o un televisore, chiedono un finanziamento. Vediamo di che si tratta. Il primo giugno è entrata in vigore la nuova normativa sul credito ai consumatori. Sì, è proprio il nome stesso che è fondamentale. Non si tutela più il bene, il consumo, ma si tutela la persona fisica, il consumatore. Che cosa accade? Accade che finalmente entrano in vigore norme che attendavamo da anni, norme che danno maggiore sicurezza in fase precontrattuale, per cui la persona, il consumatore, che vuole prendere un finanziamento è più tutelato, può fare un confronto che prima non poteva fare. E in più ci sono tre aspetti molto rapidi che si possono affrontare. Il primo è introdotto anche nel settore del credito il diritto di recesso. Entro 14 giorni si può recedere senza motivazione dal finanziamento. Collegamento negoziale, ovvero nel momento in cui mi viene consegnato un bene da un esercizio commerciale rotto, non funzionante e l'esercizio commerciale non me lo ripara, non me lo sostituisce, posso interrompere come consumatore il pagamento di quel finanziamento. Terzo è per noi fondamentale proprio come adconsum, l'introduzione del merito creditizio. Che cos'è il merito creditizio? La responsabilizzazione del finanziatore, quindi banco o finanziaria che sia, nel dare il prestito al soggetto, perché oggi o meglio il rischio è che la persona si indebiti troppo. Quindi si è trovato un modo a livello europeo e per tutti i paesi europei, per cui il finanziatore deve stare bene attento, uno a informare il cliente, due, a dare un finanziamento se quel finanziamento non rovinerà, tra virgolette, quella famiglia. E torniamo a parlare della campagna Libera la benzina, promossa dalla Feggica Cisle e dalla Faibe Confesercenti, alla quale Adconsum ha dato la propria adesione, contribuendo anche alla raccolta delle 500.000 firme necessarie per la presentazione del disegno di legge in Parlamento. A che punto è la campagna Libera la benzina? Penso che per la fine di giugno presenteremo questa proposta in sede parlamentare ai due rami del Parlamento e credo che potrebbe essere una delle prime leggi bipartisan che si riesce a fare in questa legislatura e forse da parecchi anni. A dopo l'estate allora? Sì, io spero che prima dell'estate ci sia intanto questo appuntamento. Sicuramente dopo l'estate ci sarà il proseguio della battaglia Libera la benzina. Internet sta assumendo sempre più un ruolo significativo nella vita dei cittadini di tutto il mondo e si comincia a parlare della necessità di definire i diritti di un nuovo soggetto, quelli cioè dell'utente digitale. Vediamo il servizio. Quali, secondo Adconsum, i diritti che dovrebbe avere l'utente digitale? I diritti sono quelli fondamentali, quelli che conosciamo, che noi difendiamo come associazione di consumatori che vanno però poi mediati, applicati ai nuovi mezzi di comunicazione. Internet non è altro che un mezzo di comunicazione, nuovo, importante che svolge un ruolo economico perché sappiamo quanta impresa ci sia dietro, ma dietro ci sono anche milioni di cittadini, anzi miliardi, che poi sono anche maggioranza normalmente. Però abbiamo da una parte la potenza economica e dall'altra la potenza dei numeri. Ecco, forse dobbiamo cambiare la modalità di rappresentatività. Quindi che cosa vorrebbe dire? Che se un Google, un Facebook decide di mettersi in rete nel mercato non può farlo senza avere avuto anche un ok nelle sue regole, nei suoi metodi da chi rappresenta l'altra faccia, cioè gli utilizzatori. Ed ora passiamo alla nostra rubrica Un problema, una soluzione. Vi ricordiamo che potete inviare le vostre domande all'indirizzo infotv-adconsum.it Come possiamo migliorare l'efficienza energetica delle nostre abitazioni? Prima di tutto è necessario conoscere le nostre abitazioni, quindi è fondamentale partire da una diagnosi da un audit energetico della nostra abitazione per capire dove è possibile migliorare le caratteristiche della nostra casa. Interventi sicuramente facilmente abbordabili e da un costo contenuto sono in primis la sostituzione della caldaia con una caldaia a condensazione intervento che può essere detratto del 55% dalle spese fiscali e quindi la spesa viene dimezzata la sostituzione degli infissi per migliorare la tenuta termica della nostra abitazione sia d'estate che d'inverno oppure intervenire anche sull'utilizzo di elettrodomestici molto più efficienti. Ricordiamo che elettrodomestici di ultima generazione risparmiano anche il 50% di energia rispetto agli elettrodomestici di due o tre anni fa. Un ulteriore modo poi per misurare la propria efficienza è quello proprio di concorrere, entrare in una vera e propria competizione dove io posso capire se sono efficiente e competitivo rispetto agli altri. Come posso fare questo? Attraverso il sito di AdiConsum è possibile partecipare alla Coppa Climatica dove io mi metto in gioco e in funzione dei consumi della mia abitazione posso vincere un premio del valore di 2.000 euro. Ed ora la nostra rubrica una domanda a risponderà un nostro esperto. Emergenza batterio killer in arrivo nuovi casi dalla Francia come difendersi? Innanzitutto dobbiamo dire che il batterio scrigiacoli fa normalmente parte della nostra flora batterica intestinale soltanto alcuni ceppi hanno la facoltà di provocare queste diarree emorragiche probabilmente questo francese non ha neanche lo stesso ceppo che ha provocato l'epidemia in Germania. In ogni caso tutti i ceppi sono sensibili alla temperatura quindi è sufficiente una cottura che porti l'alimento a 70 gradi per almeno due minuti fino al cuore del prodotto per distruggere completamente il batterio. Allora quello che noi possiamo consigliare sebbene non ci siano ancora stati i casi per fortuna in Italia è di applicare le normali regole di igiene della persona e della preparazione dei prodotti alimentari. Lavare bene e sbucciare tutti i prodotti ortofrutticoli quando possibile e cuocere bene la carne specialmente se si tratta di prodotti a base di carne tritata come gli hamburger e evitare le contaminazioni crociate cioè nel caso in cui si debba passare dalla lavorazione di un prodotto crudo a uno cotto lavare sempre tutti gli utensili lavarsi le mani e quindi ecco questo dovrebbe essere sufficiente per metterci completamente al sicuro. Il nostro DG finisce qui vi ricordiamo che potete seguirci sul nostro sito tv.adconsum.it oppure sui canali tv.adconsum di Youtube e Vimeo grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti